Salve a tutti ragazzi e bentornati su Quei Due Sul Server 2 con Tomb Raider, il gioco facile. A volte ci vuole veramente poco per ammazzare qualcuno nei giochi stealth, perché tutta l'azione si basa sulla girare il nemico ed è poi, vabbè, l'uccisione premi un tasto. Molto spesso funziona così. Allora. Benvenuti in questa nuova fase di Tomb Raider. Un'uccisione silenziosissima. Eh, vabbè. Prendiamo ste frecce, anche perché qui ci dovremo muovere in maniera molto, molto, molto silenziosa. Salviamo qui al fuoco. Abbiamo dei punti di abilità da assegnare. Allora. Scorza di ferro, danni da esplosione, vediamo un po'. Ti consente di recuperare le frecce quando depredi i nemici. Ecco, questo è molto utile. I miei punti sono terminati, però recuperare le frecce per me è vitale, visto che considerato che ho una mira di merda. Ho una mira di merda! E quindi le perdo proprio le frecce. So che qui si possono ricostruire facilmente, cioè, però, è un disastro per me. Allora, frecce avvelenate... Allora, frecce avvelenate... Allora, questa, proviamo una frecce avvelenata. Porca di una puttana... Madonna, molto, molto mortale, molto cattive queste frecce. Ecco, quello che vi dicevo, voglio poterle recuperare in qualche modo. Qui possiamo salire. No, perché l'albero non ha le caratteristiche arrampicose che mi servirebbero. Facciamo un po' di esperimenti. Possiamo tagliare la corda con una freccia? Alla Robin Hood? No che non possiamo. Queste cose non le ho mai fatte, perché io non sono uno spippolatore. Io vado dritto verso il mio obiettivo, mi frega veramente poco di spippolare. Però siamo in un game play, siamo anche rilassati. Mamma mia, cioè, questa è una scimmia, Lara. Mi trovo veramente male con la mira assistita, eh. Forse farei meglio a toglierla. Perché io comunque tendo a mirare alla testa. Assolutamente. Non si può togliere soltanto la mira? Devo per forza cambiare il sistema di combattimento. Devo metterlo più difficile, perché se no non mi... Yes! Adesso i combattimenti saranno veramente tosti, eh. Ve lo dico perché se schiatto di continuo è perché... non voglio la mira assistita. Voglio essere artifici del mio destino. Allora, quello là dietro si sta allontanando dal gruppo ed è un fesso, perché così io lo acchiappo senza pietà. BAM! Ragazzi! Per quanto io possa far cagare con il gamepad, la mira assistita mi dava problemi. Ok. E uno di voi è andato. Manca l'altro. Bravo, bravo. Vai a controllare che non si sa mai. Pieno di brutta gente e quanto... Mamma mia che mattanza, ragazzi. Ho proprio fatto una mattanza di quelle serie. Luttiamo, luttiamo i corpi. Ormai siamo quasi pronti. Sì, sì. Ragazzi, volete sentirvi quella roba lì? Vi comprate il gioco. Io non ce la faccio a sentire quelle cose lì. Eh, ma sono lore... Eh, lo so. Però... Cioè, quando gioco voglio giocare. Quelle cose le ho sentite già durante la mia prima run su Xbox. Però devo dire che nessuna di quelle cose è sostanziale. Cioè, seguire la storia in maniera lineare si può fare, anzi si deve fare secondo me. Può, e se sei un completista, vuoi sentire tutti i dialoghi, tutte le cose, allora sì. Però diciamo che non c'è bisogno di... Ah la 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 la... Meglio a tirarlo fuori. Aspettate che mi faccio un po' di frecce avvelenose. I funghetti servono molto a questo... a questo scopo. Anche perché tra un po' dovremmo affrontare... Eccolo! Lo vedi quanto è bello? Lo vedi quanto è grosso? BAM! La cosa bella di ste frecce è che... Ok. Cioè, l'ho segato così cattivo? Io mi ricordo che ho dovuto combattere come un disgraziato per... Per cavarmela contro sto cesso. Non uso gli oggetti, uso sempre le armi più scarse, i potenziamenti più scarsi. Invece qui veramente non ci voleva niente. Io mi ricordo che ho combattuto con l'orso ma per tipo due ore. È stata una cosa estenuante e lunghissima. Ma forse... C'è un altro orso. No! Niente! Cioè, proprio... Sono passato avanti? Se voi guardate gameplay di Apollonio vi renderete conto di quanto faticato per ammazzare quell'orso con il sistema di combattimento impostato più facile di così. Porca troia! Le frecce velenose sono la via. Cioè, sono proprio crudelissime. Aha. Eh, risparmiano un sacco di tempo nell'esplorazione queste... queste lucine che ti guidano. La fattura sembra mongola. La fattura sembra mongola. Non capisco se siano fatte male o se siano della Mongolia. Però... Andiamo... Andiamo avanti. L2 per immergerti. Vai e Lara, vai e Lara che tu sei tanto brava sott'acqua. Come saprete le hanno trapiantato i polmoni di una focena. Oh... È ora di farsi un riposino. Allora, abilità. Abbiamo un altro punto disponibile. Vediamo un po'. Sopravvivenza. Puoi fabbricare più rapidamente oggetti lanciabili e munizioni durante gli spostamenti. Va bene. Questa è una cosa buona e giusta. Inventario. Potenziamenti disponibili. Vediamo cosa abbiamo. Qui non possiamo fare nulla. Vabbè, attrezzatura. Possiamo fare dei proie... Il borsello per le munizioni. Perché tanto tra un po' cominceremo a trovare fucili a profusione. Potremmo utilizzare... Tranquillamente le nostre... Le nostre munizioni aggiuntive. Piccozza. Possiamo migliorare la piccozza. L'impugnatura rivestita in pelle migliora la presa per una sola mano. Consentendo di impugnare due piccozze per scatenare micidia di combo in mischia. Vai. Sono belle queste... queste caratteristiche. Si progredisce in maniera veramente carina in questo gioco. Non si sente poco l'avanzamento. Anzi, ogni nuova abilità che sblocchi, ogni nuova modifica che fai alle armi è... E' molto influente sul... sul gioco. Quante bestemmie ho tirato in questo punto del gioco. Voi non avete idea. Non avete proprio idea. Però, se non ricordo male, quella è una tomba. Cioè, è una sfida aggiuntiva. Non sono costretto a fare quella roba. Però ho tirato un mucchio di bestemmia. Non perché sia difficile, ma perché è molto molto lungo da fare, eh. Quindi direi proseguiamo allegramente verso... verso la nostra meta. Non stiamo a... a pettinar bambole. Altri reperti, monete antiche. Ed eccoci qua. Nuota, 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 nuota. Qua bisogna azzeccare anche... La strada, perché se sbagli strada fai quella più lunga, affoghi. Non so quanto ci ho messo a fare questo pezzo la prima volta che ho giocato. Però adesso sta andando tutto liscio. Sono morto affogato tipo 3-4 volte. E adesso... Adesso ci succede una cosa brutta brutta brutta. Qualcuno ci spara addosso, però. Con uno scavallamento di campo orrendo. Orrendo. La freccia arriva da tutta altra direzione brutta. Questo è tutto da vedere. Vabbè, lei non è... Lei non è... Non è così cattiva, diciamo, dai. Anche se, se avete visto il gameplay con Apollonio, saprete che lei è la perpetua del... del parroco della zona. Io vi consiglio di andarci sul primo canale a vedere quella... quella roba lì. Perché io mi rendo conto che molti vengono sul secondo per vedere... I gameplay e non vanno a vedere i video sul primo. Però, andatevi a vedere quei video, perché sono in buona parte l'ara morta. Dicevo, sono in buona parte i gameplay. Sono i video con il nonno e Apollonio. Sono gameplay veri e propri di Tomb Raider, però raccontati in maniera... È come il diario del Capitano, ragazzi. Se vi è piaciuto il diario del Capitano, vi piace anche quello. Non è che siccome sta sul primo canale, allora lo evitate. Anche perché... È forse una delle serie il cui... Il cui apprezzamento è stato più alto. Cioè, proprio tutti i commenti entusiastici, positivi... Non ci credevo, quasi. Arca puttana... Conigli di merda. Ma è apparso un uccello? Ammazzo la gazza, guarda. A parte che le gazze, proprio come animali, mi stanno sui coglioni. Qui c'è un catavero. Sentite l'ara, non posso fare niente per lui. È troppo... Comunque sono audiolesi da morire questi qua. Proprio non sentono niente. Non sentirebbero neanche un furgone che gli parcheggia in camera mentre dormono. Mai visto niente del genere. Uno svitato figlio di puttana che attacca con un'ascia tre uomini armati. Si lancia una bottiglia. Si fa così. Tanto una volta che attacchi uno l'altro, vedi, è completamente sordo. Non si rende conto. E questo è il combattimento avanzato. Cioè, questo è uno dei difetti più grossi in Tomb Raider, secondo me. Non abbiamo fatto la recensione, ma se l'avessimo fatta avremmo sicuramente detto che uno dei difetti più grossi è questo. Cioè, non è possibile che tu mi imposti un gioco con delle sequenze stealth in cui la gente è completamente sorda. Sorda proprio. E questo è avanzato il combattimento. Dovrebbero essere duri come il marmo da uccidere, invece. Per lustra la zona di atterraggio dell'elicottero. Questa parte, mi ricordo, mi ha divertito molto. È steltosa quanto basta. E là! Proprio niente, cioè, siamo imbattibili. Siamo un supereroe. Ho lanciato la bottiglia, più che altro per costringerli a guardare in un'altra direzione, eh. Per allontanare occhi indiscreti. Che sta succedendo? Avete visto, ragazzi? Ehi, quella mamita. Mi ha visto, mi ha visto. Aspettate, dobbiamo un attimino ripensare la nostra strategia. Mi ero molto incuriosito dal suo movimento con quella cassa. Aspettate, a questo qua gli posso fare una cosa veramente cattiva cattiva. No! Gli volevo fare la morte dalla... Gli volevo fare la morte dall'alto. Ah, questo mi fa capire chi sono i nemici che si vedono e quali non si vedono. Tipo... Allora, questa adesso porta la... la... la cassa lì. Ok. C'è anche un bel tizio qua sopra, eh. Non so se l'avete visto. Eccolo lì che passeggia beatamente. Eh? Eh, volevo dite, ho preso in faccia due volte. Sono pirla, eh, per carità. Sono veramente pirla. L'ho ucciso? Quel colpo di freccia lo ha... Oh, 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 oh! Oh! Devi morì, devi morì! Ottimo. Il tizio al secondo piano l'ho già ammazzato, quindi non mi serve... A chissà cosa essere furtivo... Anzi no. C'è qualcuno. Ma è lui! È lui quel maledetto? Muori, muori bastardo! Ok. Adesso ce n'era un altro qui, ma l'ho segato prima. Dovrebbe esserci un cadavere da queste parti. E infatti, ecchete l'ho lì. Mi riprendo pure la freccia. Sì, tuoi. Via. Eh, hai rotti il cazzo però. Eh, scusami eh. Fammi fabbricare... Ah, mi mancano i funghi. Volevo fare delle frecce velenose. Sarebbe stato carino sparare con le frecce velenose, ma non si può, non si può. ... Oppla! Ragazzi, su questi bei momenti di scaprettamento, io vi dico, questo gameplay è durato anche abbastanza. Quindi noi ci vediamo al prossimo Gameplay, sempre qui con Tomb Raider se vi andrà. E alla prossima. Guardate che bella luce. Grazie.